Un'ora da aspettare Un altro aggiornamento che si deve installare Dopo mezz'ora siamo ancora qui Un'ora dopo A quanto pare sembra che sia arrivata la confraternita Benvenuti nel vicinato Visita il nuovo quartier generale della confraternita Beh può essere un'idea Ascolta il messaggio della confraternita Non vedo C'è troppa luce Ramani Yes Pur ideali Venite a Ford Atlas Va bene Arrivo subito Per un futuro migliore Perché nessuno pensa ai pampini Vai a Ford Atlas Va bene Dove mi trovo io ora in questo momento? Super mutanti Meglio fare attenzione Ma tanto la confraternita mi salverà La confraternita salverà la mia anima Meme Material È un astronauta armato di ascia Sono quasi arrivato Finalmente la mia anima sarà salva La confraternita mi aiuterà a epurare questo posto Costruire la fiducia Oh Ma mi stai dicendo che per caso Include la confraternita come una fazione a parte? Quindi esistono i coloni I predoni E la confraternita O è una roba in più? Bah Lo scopriremo Parla con Rasei Dorsey Va bene Ehi là salve Voglio arruolarmi Buongiorno Salve Ma dai ma Iniziato della confraternita Ti do il benvenuto a Fort Atlas È il modello base del volto del maschio di Fallout 4 Ma non si sono neanche impegnati Ma dai Allora C'è per caso un responsabile qui? Vuoi arruolarti? Oh È semplice curiosità Beh Comunque sia Non è con me che devi parlare Bravo Stai al tuo posto ragazzino Va bene ci vado subito Salve Vorrei entrare a far parte della vostra organizzazione Il centro esterno non è ancora sicuro I rifornimenti non sono ancora sistemati Abbiamo troppi aspiranti Non ho tempo di coccolare i civili I tuoi incarichi sono quelli che sono Cavaliere Salve Sono un astronauta io Ma questo è un ordine diretto del tuo comandante Aiutaci a coinvolgere la gente del posto Bravo Brava Coinvolgimi Coinvolgimi Se proprio insisti Paladino Se non c'è altro Coinvolgimi Che c'hai? Ehi là Mi hanno detto di parlare con Ma Lei può passare Io no Signora Comunque Paladino Si fermi Se hai una richiesta per la confraternita Mettiti in fila Adesso non ho tempo per te Quanto siamo stronzi eh Russell mi ha detto di parlare con te Dorsey dovrebbe presidiare l'ingresso Non fungere da mio segretario personale Secondo lui potrei dare una mano io Dorsey si fida troppo ma Il suo impegno è innegabile Forse in te ha visto qualcosa di meritevole Una recluta come tante Beh perché no Tanto È il contenuto nuovo Oh sì certo Unirmi alla vostra nobile confraternita Sarebbe un onore per me signore Se lo pensi davvero Allora Bene Ma se sarcasmo Guarda il muscolo della gamba Che intanto continua a saltellare Di norma Ti metteremo insieme agli altri aspiranti Per capire chi è digno e chi no Ma Se te la senti di unirti a noi Il tuo tempismo non è affatto male E vai C'è qualcosa che potresti fare per me Aiuterebbe l'ordine E dimostrerebbe le tue qualità come aspirante Beh perché no Sono arrivati molti civili Qui a Fort Atlas Con richieste di ogni genere Oh no Aiute civili del cazzo No ti prego Oh no Se ti interessa dare una mano Fammi risparmiare tempo Parla con i richiedenti Scopri cosa vogliono E riferisci a me No 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 Le missioni di aiuto ai civili del cazzo No Che cosa ci guadagno in tutto ciò Essere nella confraternita è un onore E richiede impegno Se è una cosa che vuoi davvero Comincia da qui Completa l'incarico E potremo parlare del tuo futuro Wow Evviva Andiamo ad aiutare i coloni Yeah Ma vaffanculo Ma vaffanculo Mi stai delegando i compiti inutili Che non vuoi fare tu Allora tu Che cazzo vuoi Hai qualcosa di utile da dirmi Ehi testa di cazzo Senti Sono qua per aiutarti Stronzo Lui non si scomoda per me Cosa è Vuole sequestrare altra cera per armatura Ok Ok Sì esatto Statene buono Guarda Allora Che cosa ha da dirmi Tu che cazzo vuoi Dimmi qual è il tuo problema Il problema Sai che non ha tutti i torti Sono venuto qui per dare alla confraternita la possibilità di sistemare la cosa Altrimenti potrei andarmene a crater e fare come fanno loro Almeno non fingono di essere i buoni Beh Guarda se non fosse che devo aiutare la confraternita per aggiustare questa situazione ti direi vai Lo informerò però prima fammi fare un paio di domande Ah non c'è nulla di che in pratica devo solo dirgli a quel tizio o te quello lì si sta lamentando Ok Tu qual è il tuo problema Questa pazza vuole le armi I fenomeni della confraternita Mi chiamo Tally Lang Che si dice Tu che cosa vuoi Non sei un predone vero Che io Un predone No 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 Una ragazza come me No no scherziamo Tu sei iper sospetta signorina eh Cosa stai cercando Le armi Sì esatto Grosse armi luccicanti No forse è solo una fanatica Mi sono detta Tally devi averne uno Per autodifesa ovviamente Certo Così io e i miei innocenti e poveri amici Possiamo proteggerci da tutti quei brutti ceffi che circolano qui No sto parlando con lei Va bene proverò a diglielo Sì ci sta Promettere e non mantenere è pericoloso Comunque Beh provaci Va bene Chi sono i prossimi Tu e quell'altro Ehi la Art Ehi ma guardati Che c'hai Sei con quei fratelli d'acciaio D E un pezzo che aspetto di parlare con loro E vai Sì dai dimmi fra Era ora Pensavo di morire qui di vecchiaio Morirei prima con la mia accetta Bello Quindi quel cavaliere Per quale motivo ti manda Vuole sapere che cazzo c'hai Voglio un accordo equo Ho già sentito parlare di questi tizi d'acciaio Cosa stai toccando? Andavano in giro Prendevano cose alla gente Per la causa dicevano Ma questo non li rendeva meno predoni E questo effettivamente non è che è tutto sbagliato Dei predoni io devo già preoccuparmi abbastanza Così preferisco mettere in chiaro le cose in anticipo La mia fattoria non produce molto Ma ho delle eccedenze Ah quindi è venuto lui per commerciare stavolta In cambio Voglio che queste Persone d'acciaio Tengano i predoni alla larga dai miei campi Ad ora questo è stato il più onesto dei tre Questo qua è stato il più onesto dei tre finora Proporrò la tua offerta Vabbè stammi bene anche tu eh Ok l'ultimo E da dove l'hai tirato? Cosa stai facendo? Stai buono Blackburn Ma sembri Blaskovic tu Sì ho capito Fammi Parlami Parlami Posso aiutarti? No sono io che sto aiutando te Sentimi Stronzo Salve Che cazzo sei venuto a fare qui? Ho saputo della tecnologia avanzata della confraternita Ok è uno scienziato Giustamente Sono qui per capire se sia possibile trovare un accordo Ma a quanto vedo sono ancora in alto mare con le operazioni Visto lo stato degli altri richiedenti Ipotizzo che le loro necessità siano più urgenti delle mie In realtà solo uno su quattro è più urgente della tua Quindi abbiamo lo scienziato Il tizio della fattoria che sono quelli belli importanti Una tipa che non si capisce se è un predone o comunque una fanatica di armi pazza E uno che si lamenta che dei tizi della confraternita appena arrivati a quanto pare siano venuti a saccheggiarlo Secondo me erano dei predoni che si fingevano della confraternita Lo comunicherò Grazie Stammi bene Anche tu Blaskovic Senti ho finito la tua missione inutile Hai fatto ciò che ti ho chiesto? Eh aveva oia Ho parlato con loro Bene Procediamo Ho l'elenco dei loro arrivi Dammi una visione di insieme Il tizio della fattoria vuole darvi cibo in cambio di protezione Non siamo mercenari che offrono i propri servizi in cambio di merci di vario genere Ok questo è vero però in realtà sembrerebbe una cosa che gli darebbe un bel po' di vantaggio A me sembra un buon accordo È irrilevante La confraternita non può condiscendere alle richieste di tutti i contadini Abbiamo i nostri problemi Ma quello vi offre cibo Prossimo argomento Ma che tessa di cazzo mamma mia Il dottore invece vorrebbe unirsi alla vostra causa per i materiali che potreste fornirgli La confraternita non è un'organizzazione umanitaria Non fornisce ai civili equipaggiamento atto a soddisfare i loro interessi E questa è la stessa risposta per la tizia armata La ricerca in via esclusiva accettando la nostra supervisione non otterrà niente Beh può essere un accordo eh Se lo aiutate sarebbe un bene per tutti Il nostro lavoro è recuperare e conservare tecnologia Non trovare scienziati che la sviluppino Ma conservarla non vi serve a niente La confraternita drizzerebbe le antenne Fino ad allora è un problema suo Wow che grande aiuto eh Che grande aiuto alla società La tizia vuole delle armi No non siamo trappicanti d'armi Credo che possa essere un predone Mai e poi mai avrei autorizzato la cessione di armi a quella donna Ma la tua solerzia è degna di nota Procedere Ok Mentre infine il tizio qua fuori dice che Della confraternita gli hanno rubato della roba Impossibile E di certo non si tratta di qualcuno dei nostri Che è quello che ho pensato anch'io La fuori ci sono orde di malfattori E non è compito della confraternita Braccarli uno a uno per i rispettivi crimini Ti vedo che mi infastidisce sentire che qualcuno stia abusando così dell'onore della confraternita Ecco Finalmente qualcosa sull'onore l'abbiamo detta dai Wow aiutiamo la gente forza È tutto un cazzo Nonostante i miei pregiudizi Hai dimostrato di saper obbedire e renderti utile alla confraternita Devi solo mitigare i tuoi istinti da civile Ma riferirò al paladino Ramani del tuo impegno nell'assistermi E vai 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 Va bene lo farò Sempre vigile mi raccomando Ad victoria manca a te Posso entrare? Yes Ho costruito la mia fiducia Con la confraternita d'acciaccio Buongiorno Confraternita d'acciaio Che cosa abbiamo qui? Un'arma di distruzione di massa? Eila scriba Mi puoi dare una mano? Salve civile Non voglio essere scortese Ma dimmi Che cosa ci fai qui? Ora faccio parte Della vostra confraternita Oh porca troia L'intelligenza artificiale Il cavaliere Shin Mi ha detto Che potresti darmi una mano Oh un aspirante iniziato E ti manda il cavaliere Shin? Allora siamo due persone fortunate Ah beh Il paladino Ramani Gestisce le reclute Ma il cavaliere e io Abbiamo una certa influenza Lui immagino E ho bisogno di qualcuno Che mi aiutasse Con una piccola missione Oh no ti prego Se ti interessa Puoi venire con me E darti da fare Comportati bene E metterò una buona parola per te Che ne dici? Guarda Se io posso mettere anche io Una buona mano su di te Affare fatto Non ci hai pensato neanche un attimo Eh lo so Lasciatevi vostri la missione Prima di cominciare La nostra base è piena Di vecchia tecnologia Ma c'è una cosa in particolare Su cui voglio indagare Andiamo ad indagare Se dovrei riuscire di questo posto Una parte di Atlas Che abbiamo reso inaccessibile Non voglio andarci da sola Vorrei del supporto Ah beh Ti supporto io quanto vuoi Sembra molto pesante La situazione Andiamo Bene Purtroppo io devo finire Alcune cose qui Scendi pure di sotto E ti raggiungo subito Perché ho paura Che farò questa missione da solo E lei non arriverà Ho l'impressione Ah ma Ma come Ma È lì sopra Non sei Sei un fantasma Di la verità Tu non fai parte della confraternita Sei Un fantasma Che si nasconde qui dall'epoca Prima della guerra Bene Sei qui E anche tu a quanto pare Come va con la comprensione del testo Cosa Andrei a esplorare la zona Sì Che cazzo è quel coso Un grillo delle caverne Ma Ma aiutarmi Dove è andata la tipa Ma porca puttana Aiutami Dove è finita Io ho capito Che qua finisce Ammazzata adesso Testa di cazzo Di un grillo Io ti Spacco l'esistenza Ecco fatto Ah beh Grazie di avermi aiutato Eh comunque Ma quanti ce ne sono Ma porca Eh beh certo Tu con un colpo Li fai fuori No Ecco fatto Deve essere il dottor Abbo Scienziato capo di Atlas Abbiamo recuperato alcuni suoi olonastri Lui La tecnologia qui è opera sua E non ha mai mollato Neppure dopo la guerra Dovremmo concedergli una degna sepoltura Guarda tutto quello che vuoi Qua invece c'è un documento Il rapporto Bello bello Certo Qua c'è un altro Perfetto Top secret addirittura Ne manca solo uno Ed eccolo qui Altro rapporto Numero tre Ok ci siamo Sì ecco tutto Parliamo un attimo Guarda Parliamo quanto e dove vuoi Dovrebbe bastare Fammi dare un'occhiata Ti Ti faccio dare un'occhiata Se tu mi fai dare un'occhiata Ma quanto carina Il progetto era davvero messo così male Ahà Forse c'era da aspettarselo Incredibile Bombe atomiche assolutamente Wow Queste sono informazioni riservate Che ti ho appena concesso di leggere Sì 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 Cosa ti in realtà non avrei dovuto fare Vero? Guarda Se mi fai leggere anche le tue informazioni riservate Io sono contento Questa sarebbe una risposta reale Puoi dirlo forte Cos'è sto progetto? Beh Ti manda il cavaliere Shin Perciò penso di potermi fidare Fidati di me Sì 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 Fidati Non posso dirti tutto Ma condividerò gli aspetti più rilevanti Certo Prima della guerra Atlas non era un osservatorio Davvero? Come no Come no? Svolto delle ricerche Ricerche molto avanzate Certo Molto interessato E capire cosa può tornare utile alla confraternita Tutto quello che vuoi Grazie mille Ti avevo chiesto aiuto Dopotutto Ah ah Certo È giusto prepararti a quello che potresti trovare Beh Mi sembra onesto Ora seguiamo qualche pista presente in questo rapporto Vorrei individuare rapidamente componenti chiave presenti nelle vicinanze Va bene Dovrebbe esserci un terminale Se è ancora obbligato Ti stai avvicinando signorina Ah ah certo Ci dira di più sull'attrezzatura meno accessibile Certo certo Secondo il rapporto La pompa di accesso era sottoposta a pressione elevata Sì sì La pompa assolutamente Togliamo la valvola di rilascio E vediamo un po' che succede No no Infine l'unità centrale inferiore di questo livello Dovrebbe avere una scatola di connessione Lì verificheremo la situazione a livello elettrico Va bene Come no Andiamo L'ispezione dovrebbe essere semplice Pensaci tu Ti guarderò alle spalle Certo Prendi parte dei dettagli e dopo noi discuteremo Va bene Allora la valvola è lì Vediamo funzionerà Figa Come fa ad essere esploso una valvola in questo modo come una granata Secondo me mi esplode in faccia tutto oggi Vediamo Scatola di cablaggio I cavi di cablaggio sembrano danneggiati Probabilmente opera di qualche roditore Ma va Ma pensa un po' Testa di ca... Dove vai? Stupido topo Troppo grande Per la tua taglia No Sta morendo Ti aiuto io Come faccio? Uff Ma quanti ce ne sono? Dannati toponi Stasera si mangia carne di topo Ancora? Ancora che? Che sei caduta prima Per un topo Santo cielo Cosa fai la spavalda? Ma quanti ce ne sono di topi? Dannazione Ecco fatto Ma porca Ecco fatto Una roba leggendaria Attenzione Ti aiuto io Per un pelo Eh Per un pelo si signorina Che bello Ho trovato anche un pezzo leggendario Sono contento oggi Ma porca puttana Ma tutte le cose che trovo Sono braccia sinistre Ma sono sempre cose che ho già Ma vaffanculo Il mio braccio sinistro fa 7 e 16 Questo qua fa 9 e 6 Più altri 9 Per le radiazioni Però mi fa 15% in meno Dai danni degli ardenti Però questo mi dà 3 a tutte quante Le mie statistiche Quando scarseggia la salute Il che non è male Anzi Volendo ben vedere Se io adesso Mi sparo magari Una granata in faccia Senza morire Potrei aumentare Le mie statistiche Ultima cosa da controllare Esegui controllo Perfetto Parliamo quanto vuoi Signorina Vieni qua Vieni qua che parliamo io e te A tetta tetta La diagnostica La diagnostica rileva Alcuni problemi Flusso interrotto nel ciclo Di induzione Banco di emissione In avaria L'acceleratore ionico Messo di merda Morto totale Oh Disallineamento Ora tocca La valvola di rilascio Sembra Beh Tu cosa ne pensi È un problema esplosivo Ha scaricato pressione Quindi È un bene forse No non va bene La decompressione esplosiva Non è quello che ci serve Ah no ecco L'ultimo ma non meno importante Il cablaggio Che mi dici I topi si sono magnati tutto Già E il loro caloroso benvenuto È un indizio interessante Già E tu sei carinissima Ok Perdona il mio quiz a sorpresa Madonna In generale sai cavartela bene Per ora Eh Per come la vedo io Tu sapevi già tutto invece Infatti è così Non scrivi abbiamo un detto Tramite i dibattiti Diventiamo più forti Certo Ma questo non era un dibattito Era un test Ah ah Ti testo io quanto vuoi ora Volevo capire se tu fossi una persona attenta E adesso lo so Eh già Scusa se ti ho fatto arrabbiare No no Non mi hai fatto arrabbiare Sono preoccupata per quello che abbiamo trovato Ci sono alcuni elementi Che vorrei portare in laboratorio Va bene Unità di elaborazione centrale E acceleratore ionico Dovrebbero essere di sopra Esaminandoli potrai scoprire qualcosa Dovremmo prelevarli e trasferirli al mio laboratorio In buone condizioni Perfetto In pratica mi stai dicendo Fai il mulo da somma e portali sopra Alla rimozione delle parti Pensaci pure tu Va bene Non so se ho tutte le capacità per tirarli via Senza distruggerli eh Va bene ci vado io Ok Allora Speriamo che non mi esploda altro in faccia Acceleratore ionico Acceleratore ionico Ah è praticamente un quiz Devo scegliere quella giusta Strappa i collegamenti a mani nude Ed estrai il dispositivo Scollega con attenzione i cavi e fili Ed estrai il dispositivo Ed estrailo Taglia i cavi e fili Ed estrai il dispositivo Scollega con attenzione E vai Non mi esploso niente in faccia Oggi Prossimo obiettivo Sei tu Ok Eccoti qua Il manometro Svita le vite arrugginite Rimuovi il manometro Ok Ho abbastanza forza per farlo Facciamolo Ecco il manometro Senza farlo esplodere L'ultimo pezzo è un computer Ok Vediamo Gestione della CPU Stato dell'alimentazione Registri operazioni Espelli la CPU Carazze Aia Puoi prelevare la bobina a induzione Dall'unità centrale Pure Cosa sono? Un fattorino? Sono un tuttofare? Sono bobbola giusta a tutto? Vabbè ti aiuto Ma perché sei carina Allora Dov'è? Bobina a induzione Secondo me mi esplode in faccia anche questo Dentro il contenitore C'è una bobina a induzione Con due fili collegati Uno rosso e uno blu La macchina mette un ronzio E i cavi crepitano Cosa intendi? Come intendi a estrarla? Scollega entrambi i fili Ed estrae la bobina Taglia il filo rosso Taglia il filo blu Di solito le bombe sono sui fili rossi Quindi Niente La mia scossa elettrica Un fucile d'assalto Yes Ecco qua il tuo componente Davanti a te c'è una bombola misteriosa Circondata da uno strano bagliore Cosa intendi a estrarla? Delicatamente Non mi piace per niente Che è successo? Perché c'è un sacchetto di sabbia? Chi l'ha premuto? Cosa l'ha premuto? Non è scomparso Aspetta che mi curo Aspetta che mi curo Ti ho detto Dove sei? Ma porca Perché finisco sempre le munizioni Nei momenti più sbagliati? Ma perché non si Ma vabbè ho capito Dai Perché non prende danno? E perché scompare nel muro? Ecco fatto Dammi Tutto quello che c'hai Ecco fatto Ma ce ne sono ancora Ma non è finito per un cazzo Ma quest'arma fa un cazzo di danno Ma perché? Perché ho solo Roba inutile E anche il suo assistente Dai Prendi le munizioni Dov'è l'ultimo? Ci penso io Sì ma Perché non va la mira? Perché ogni cazzo di aggiornamento Sto gioco Ha dei problemi nuovi Ecco fatto Guarda Adesso la mira Non se ne va più via Guarda Ogni cazzo di Di volta Ha un problema nuovo Dovrebbero usarla come Catchphrase Fallout 76 Ogni aggiornamento Un nuovo problema Ancora Ma quanti ce ne sono? Dove poi? Eccolo lì Arrivo eh Non ti credere Non sei una stratega C'è un cazzo di robot Ecco fatto Beh i robot sono anche strateghi Quindi Ah ecco ti scusami Non ti avevo visto Pesso di merda Smetti a dimenarmi Dove sei? Ah ecco ti Ciao Stai ferma Cosa stiamo facendo? Ci stiamo rincorrendo? Eccoti qua Qualunque cosa tu abbia fatto Al sistema di sicurezza Non è piaciuto per niente A quanto pare no Grazie del supporto Da sola non ce l'avrei mai fatta Beh ci credo Sono così pesanti Queste situazioni Il manometro Sembra in buone condizioni L'unità di elaborazione centrale Non risponde Ma con un po' di olio di gomito Potrei sistemarla Sono sicuro Che ce la farai L'acceleratore ionico È ok Notevole Perché sono bravo La bobina induzione Ha visto giorni migliori Molto migliori Cosa abbiamo qui? Eh La bella sorpresa Ma questa è Ultracite Affascinante Affascinante Sembra Una specie di fonte energetica Compatta Ah si? Nessun documento terminale Ne ha mai fatto riferimento Quindi Alimenta l'intero macchinario? A quanto pare Dicono che l'ultracite Abbia un potere Illimitato Per alimentare il futuro Ho sentito qualcosa Al riguardo Ma avere tra le mie mani Un'energia Di questo genere Il progetto Atlas Sarà anche impossibile Da ripristinare Ma forse abbiamo trovato Qualcosa di utile Eh lo spero Sedevo che il macchinario Fosse alimentato Da un piccolo reattore Ma Cosa ti muovi Tutta Tutta sexy Eh A quanto pare Credo che potrà tornarci Davvero molto utile Lo penso anche io Mi hai aiutato molto Hai la stoffa Per diventare presto un iniziato Eh ci credo Ecco Porta questa lettera Al paladino Ramani Va bene Sarà lei a decidere Se puoi unirti Alla confraternita Gliela porterò Potrebbe aiutarti Te lo voglio appoggiare Anch'io Il mio supporto Devo catalogarli tutti Se non altro Questa batteria Ultracite Ad è stato il mio interesse Scomponendola Potrei scoprire molto Certo Certo Voglio scoprire anch'io Molto Contiene tutti i registri Che abbiamo trovato Da quando siamo qui Certo Dopo quello che abbiamo passato Meriti di conoscere meglio Il progetto Atlas Dai pure un'occhiata Quando hai tempo Certo Ti darò un'occhiata Quando vuoi Grazie Spero di poterti rivedere Che ne dici Ci andiamo a fare una bevuta Da qualche parte Estrattore di verità Addirittura tre stelle Stiamo andando di lusso qua Proiettile aggiuntivo Proiettile esplosivo E costo ridiminuito Dello spav Mi voleva far felice Stadonna E ce l'ha fatta Stadonna 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 Grazie a tutti.